Emozioni casa Abbiamo lavorato sui tre aspetti creativi, forme, colori ed icone. Per la linea sole abbiamo usato come punto di partenza il design della zuccheriera caffè al volo, avvolgendolo con un morbido basso rilievo decorato con le cone del sole e del fiore di pesco. Il colore usato è il verde, tipico delle spezie e delle erbe aromatiche. Per la linea tulipano abbiamo due varianti colore, arancione per diffondere energia positiva e che dà allegria, bianco, puro, fresco e pulito, ideale per creare un ambiente elegante e un'atmosfera serena. Il design innovativo presenta un'icona che diviene forma. Un bocciolo di tulipano fiorisce, mentre dal pistillo fuoriesce un delicato profumo, grazie al foro per le bacchette sagomato fiorellino. I diffusori prendono l'aspetto di vasi decorativi, con un decoro floreale a basso rilievo che segue le morbide linee della forma. Il diffusore grande è arricchito da due piccole ceramiche poste in cima alle bacchette in midollino e la composizione è ulteriormente abbellita dall'alternanza con bacchette ondulate. Il particolare è anche il piccolo diffusore a scatolina, che come una praliniera decora e profuma piccoli angoli della casa. Per la linea cuore con le ali abbiamo scelto l'icona del cuore. Morbidi cuori tridimensionali addocciscono il tutto e i colori sono per lo più neutri per rilassare gli stimoli visivi. Anche per questa linea esistono due differenti diffusori. Il primo è a bacchette, con l'apertura sul coperchio a forma di cuore. L'altro è una piccola scatolina sagomata decorata a basso rilievo, dove un cuore si solleva trasformandosi nello stelo ceramico. Per la linea farfalla studiata per il bagno siamo partiti dalla forma delle ultime linee presentate, modificandole parzialmente. Il filo conduttore resta l'icona della farfalla, mentre il colore è nuovo, con una tonalità glicine lavanda, perfetta per esprimere visivamente una profumazione da bagno. Il colore è smaltato per garantire la resistenza al contatto con l'acqua. Anche per questo ambiente abbiamo due tipologie di diffusori. Uno costello ceramico rappresentato da una farfalla e l'altro con il coperchio traforato sagomato. Oltre ai diffusori sono stati creati sacchettini ceramici porta potpourri contenenti piccoli sassolini profumati, così come diversi piattini e ciotolini per le candele. Le candelle disegnate e modellate a mano, come tutti i nostri pezzi ceramici, esprimono con forza lo stile Thun. La superficie della cera è morbida e mossa dal modellato. La collezione è ricca e varia, con candele sagomate a forma di cuore, grandi e piccole, tonde o a forma ovale, decorate con basso rilievi o con affidi sottile velluto sui quali pendono piccole ceramiche. Grazie alla collaborazione con Vitalis Dr. Joseph abbiamo dato vita a Essenze delle Emozioni. Otto differenti profumazioni, tutte assolutamente naturali, nate per dorare il profumo del benessere ai principali ambienti della casa.